salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video quattro senone sono invitato su individua vedete se chiedevo volare buongiorno questa è la seconda parte del video i superpoteri di minecraft eravamo rimasti qua bellissimo salto salto che io al momento adesso ho sentato a 20 per un motivo ciao a tutti un modo più normale diciamo che si può definire normale saltare in questo modo andiamo a prenderci in questo mi ricordo bene il salto all'otto si appunto mi ricordo bene e invece questo guarda mi sento perfetto infatti la vostra che io so come danno osso per ricordarci in caso che perchè io sono superiore ai cartelli per per torniamo con prezzo con il mondo non potere in questo caso spinto neanche ci vuole definire potere perchè sarebbe la nausea il boff della nausea questa no ok infatti come potete legge dalla chat in auto ma si vede malissimo si vede male si vede tutto coso gondulato vi faccio vedere il comando che è questo perfetto è il numero 9 qua il tempo 1000 e 100 L scusate adesso devo fare una cosa eh infatti guarda guarda questo blocco comandi ok guarda dentro gentilmente game mode 1 ecco esattamente ho scoperto la gaffe di ieri dov'era perchè se voi pigiate potessimo mostrarglielo nella chat facendo slash help aspetta eh slash help compare una lista di messaggi che servono tutti i comandi che si possono fare nel gioco in questo caso però ci sono anche quelli che serve vabbè eh facendo help 1 help 2 così vabbè vanno avanti la pagina e se pigiate invio su un comando lui vi mostrerà degli aiuti diciamo del le opzioni che si possono avere infatti io invece mi sono sbagliato perchè del coro il nome deve essere messo alla fine metti invece io ho messo tra game mode e 1 in questo caso quindi c'è messo metto 0 0 vai su pigiale va adesso sono in sopravvivenza perfetto funziona tutto eh sono qui infatti no 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 ho sbagliato di nuovo ma sei creativo in sopravvivenza lo capito neanche io ok lo capito è uno perfetto tu sei in sopravvivenza uno spazio perciò pro attivare ok vai ok 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 pausa abbiamo fatto non c'è servito un attimo di pausa per un problema tecnico no dunque eravamo levate al 9 quindi sotto tal 10 che sebbe rigenerazione potessi gentilmente metterti in sopravvivenza mi prendo una bellissima spada in diamante ok sono in sopravvivenza questo qua come la rigenerazione del cuore è sempre uguale se non muoio si rigenerà talmente velocemente che non scendono neanche i cuori giusto si esattamente è tipo il potere di resistenza il problema è che questo qua se nel caso qui fai un salto prova metterti il potere del salto che dovresti morire in teoria si crepi si infatti sei morto che non è il potere della resistenza ma è quello della rigenerazione quindi logicamente quando cadi crepi comunque oppure quando stai nella lava ma no nella lava diciamo che è più o meno efficace ok eh ci sono altri pezzi di arlobora armature in giro vabbè eh c'è l'acqua mmm dopo eh ok e ora per l'altro potere la resistenza che è molto efficace invece questo ecco come potete vedere anche prova a saltare con quello la con quello la con quello la con quello la adesso non sentiamo per niente alcun danno anche se ci mette il potere del salto al cento niente di niente vi dico che l'abbiamo provata io l'ho provata in sopravvivenza con questa qua mi sono messo in mezzo a una casa di avete presente il campanile dei villaggi l'ho riempito di tenere io mi sono messo in mezzo ho fatto saltare la tutta l'aria e non sono morto quindi basta ok eh e questo l'abbiamo fatto oh e ok ti do il latte ce l'hai ce l'ho questo qua adesso è l'undici che dovrebbe essere eh resistenza no l'undici aveva fatto dodici che ha resistenza al fuoco infatti ok quindi c'è adesso prendo il mio bellissimo acciarino vedete qua berusha prendi danno? assolutamente no infatti come ci potremmo dimostrare ok proviamo facciamo un test guarda adesso ti metto un bel bellissimo se chi li lava un caldo una fresca no ha 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 ok one moment ok poi di buttarti senti danno? bella doccia è un piacevole una piacevole ti porre ok perfetto puoi anche uscire volendo aspetta ti stai bello scaldando intanto che tu ti stai lavando con una cosa molto disinfettante mi risetiamo un po' il giorno cos'è almeno non rischiamo che tutto diventa diventi buio e cupo ok fino a quando lo mettiamo vabbè risentiamo poco respirazione sott'acqua quindi la 13 che serve questo qua quindi scusate mi piace ti faccio anche spegnere ok facciamo così secchi di acqua adesso aspettiamo un attimo che si ti finiscono il cuore non muoio non strepa come vedete non sono ancora morto non muoio non strepa come vedete non sono ancora morto vai mortale e siamo arrivati al 13 15 dovrebbe essere questo vado a prendere della ok ok un po' tordici per anni invisibilità altro comando molto divertente soprattutto quando siete in multiplayer con gli amici qual è? questo va ok ecco io adesso per esempio ti vedo con un'armatura fluttuante davvero? sei prorati con la quantità ah si la terza persona guardate la mia faccia non esiste oh vedo soltanto se c'è tipo un'armatura appesa al muro se ci posso un muro fermi un'armatura appesa al muro aspetta che gli faccio vedere eccomi tu sei vedo il bolle ah vedo un arco ok ora non ti vedo più vedo un arco vedo un arco ah ok ecco ora mi vedo quindi quattordici a questo punto passi e quindi quinto ecco la quindici visione oscurato o visione notturna è quella che è il contrario della visione notturna ecco dov'è? ok guardate non si vede niente un buio ok mi sono già perso diretti no ok è perfettamente lì fermo è il latte perfetto da 16 che bisogna notturna ora vi dimostra che bisogna notturna facendo ehm ehm set night ora tu vedi tutto come normale si la differenza adesso provo a bere il latte ecco ehm 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 io ti consiglio di girarti ok guarda cosa succede con la nave di quindi a quelle c'è da il mio amico ACI che al momento non può fare su skype perchè c'ha la 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 c'ha il microfono che non funziona vabbè quindi vediamo così perfetto ehm 16 abbiamo fatto ben detto no 17 adesso è in sopravvivenza vero no sono in creativa e dovessi mettere in sopravvivenza cosa cazzo sta vabbè diciamo stare ok la 16 ehm no 17 ed è? ed è? ecco ecco famigli sì ehm quindi logicamente ehm ma la fame è quella da zombie è come se lo so a te come se ti mangiassimo sì ehm di un bel tanto una bella madre bevo un po' da sì però ti ho tolto fame ok ora la 18 che è debolezza ok perfetto ora dovrei ucciderti no con una spada in diamante anzi una spada in legno per dimostrare che pietra per cadimenti so già che si distrugge forse dopo ok ah ah quando ti ho tolto può bastare ehm ecco metà vita tipo tolgo ti ucciderò no 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 ok mi basta una vita perfetto comunque state pur sicuri che uno una persona corazzata con quasi tutto tranne l'elmo e con scusatemi no ok siamo arrivati a 18 19 dai che abbiamo quasi finito ci sarebbe veleno 19 quindi il penultimo aia state tranquilli perché col veleno non si muore mai a meno che non qualcuno non ti colpisca vi rimanga e vi rimane sempre un mezzo cuore e ora l'ultimo terminiamo con il wither il vero da wither ok dammi del latte ehm l'ultimo secchio di latte che mi rimane questo è wither e cos'è che succede? ehm dovrebbe essere rimasti i cuori neri giusto si ecco infatti vediamo che vi danno i wither i skateri di wither quando vi colpiscono e con l'invece vi può uccidere mi sembra già stavo per crepare ehm penso che abbiamo terminato con quanti minuti video 16 ok perfetto ehm vi salutiamo tutti aspetta vabbè ehm vi saluto ehm vi lasciamo dai 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 saluta non non andarla a vedere ok dai eh comunque ok vi saluto vi saluto anche da parte sua ciao a tutti ciao 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 Grazie.